gentili telespettatori buona giornata roberto saviano uno scrittore quindi ha una fantasia fervida perché oggi si paragona ad enzo tortora vi ricordate il caso di enzo tortora io ero piccolo però ricordo qualcosa anzi ricordo proprio anche delle parole dette da mio padre avanti al telegiornale e così questo roberto saviano viene ospitato nella puntata di questo podcast condotto da fedez e dalle influencer mister marra si chiama muschio muschio selvaggio non mucchio selvaggio ma muschio selvaggio ha demolito l'idea e la condotta di saviano arrivando a instaurare anche un'analogia tra se stesso e denso tortora allora si voleva parlare nella puntata del calvario giudiziario del conduttore televisivo proprio tortora e così a un certo punto l'autore di gomorra fa i suoi esercizi che gli riescono bene dice così la fama genera un giudizio senza conoscere perché se tu sei famoso qualsiasi individuo è legittimato ad avere un'opinione su di te basata sull'istinto hai la faccia da cattivo non me la conti giusta eccetera eccetera quando vado nelle scuole aggiunge dico sempre che la fama è una roba orrenda e poi dice ti sottoponiamo qualche esempio di giudizio assai basato sull'istinto lievemente inquinato dalla presunzione l'ombrosiana che il nemico abbia la faccia da cattivo criminale eccetera eccetera attenzione mi fermo un attimo ma non è proprio lui che diceva meloni e salvini li additava come dei criminali che facevano crepare le persone in mare era proprio lui che dava dei criminali a quelli che odia politicamente oggi dice e la trasmissione voleva arrivare al punto che saviano viene odiato e viene portato in tribunale da persone che dicono che praticamente lui ha la faccia da cattivo e che è un criminale avete capito come ha ribaltato diametralmente la frittata cioè quello che fa lui adesso dice che lo fanno quelli di centrodestra incredibile come ha girato la frittata bene e poi dice parla di tante altre cose lo stesso che spiegando proprio contro giorgia meloni nel salotto di piazza pulita quando lui diceva vi ricordate la mia è una campagna d'odio lo sia quindi quando formigli chiedeva a saviano se la sua era una campagna d'odio lui diceva sì e non so se vi ricordate che lui in alcune trasmissioni diceva io odio odio tante persone io ho tanto odio per per alcune persone quindi lui proprio dichiarava di essere una persona che odia va bene può odiare non è vietato dalla costituzione odiare comunque la campagna d'odio è esattamente ciò a cui fu sottoposto enzo tortora ma se aspettate che glielo facciano notare fedez e mister marra sono freschi anzi lo scrittore che ha definito con delle parolacce il premier e meloni e il e salvini e quindi sembra ostentare un meccanismo di proiezione con la figura del perseguitato quindi lui che perseguita gli altri dice di essere perseguitato ma funziona sempre così questo questo meccanismo pertanto il fatto è questo si parla in questa trasmissione di enzo tortura della mala giustizia della persecuzione verso questo conduttore televisivo come succede a migliaia di di persone sapete che ci sono circa 30 40 persone al giorno che vengono liberate in italia perché innocenti migliaia e migliaia di persone che negli ultimi anni sono finite in galera senza che avessero fatto nulla uno di questi ai tempi era proprio enzo tortora messo in galera senza che lui avesse fatto assolutamente nulla e così la trasposizione dice proprio così fedez mi dispiace dirlo purtroppo forse è rimasta un'illusione la lotta di enzo tortora e salviano dice è uno strumento giudiziario come elemento per delegittimare o attaccare chi non sopporti o consideri un tuo nemico proprio lui che parlava di ministro della malavita verso salvini che ha detto che era un criminale che era il mandante di sequestro plurimo ecco quindi saviano l'odiatore dice che gli altri odiano lui e lo vogliono mandare a giudizio proprio solo per esclusivamente per odio quello che poi era successo anche al conduttore enzo tortora quindi lui fa questa sorta di di volo pindarico tra le due figure quella di enzo tortora e lui lui che si sta trovando in una situazione simile dove lo portano a processo lo vogliono far condannare un po un perseguitato tra mala giustizia e persecutori ecco insomma naturalmente poi saviano intervistato dall'amico fedez tutti di sinistra tutti rancorosi verso chi governa capite che poi le discussioni prendono delle pieghe anche imbarazzanti nel senso una persona come saviano che è un calumniatore un diffamatore seriale che dice parolacce che offende i politici di centrodestra poi intervistato si paragona a enzo torto e si sente un perseguitato dalla giustizia o da chi utilizza la giustizia contro di lui perché ha la fama e che lui non vorrebbe insomma lui vede quello che fa agli altri lo vede verso se stesso cioè lui non si rende conto di fare agli altri quello che lui dice che fanno a lui ecco è un po tutta una una farneticazione che può andar bene per un programma di fedez passano un po di tempo se la raccontano su quanto a destra siano cattivi e pericolosi e andiamo avanti così io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie a tutti e arrivederci a presto